buongiorno a tutti sono massimo giordani sono il presidente dell'associazione italiana sviluppo marketing e proseguo con questa intervista il ciclo che abbiamo avviato ormai qualche mese fa con la nostra associazione oggi sono con enrico martinez enrico è una figura molto particolare all'interno di you at packard enterprise perché è un sociologo e io quando ebbe il piacere di conoscerlo alcuni anni fa durante un percorso di formazione interna ad hp e trovai subito come dire un feeling nel suo modo di approcciare al mondo dell'impresa al mondo dell'impresa in relazione con la società col mercato ecco non spendo parole perché il tuo ruolo veramente molto particolare quindi enrico ti invito ad escrivere cosa fai buongiorno a tutti grazie massimo per avermi ospitato è sempre un piacere fare qualcosa e collaborare insieme devo dire che da quando abbiamo avviato le nostre avventure il feeling di cui tu parli lo rinnovo da parte mia perché abbiamo trovato dei punti in comune più di pensiero e di visione che di specificità puntuali you let packard enterprise io mi occupo di una cosa bellissima che si chiama sviluppo innovazione sociale sono tutte le attività che afferiscono al mondo dell'engagement aziendale dove per engagement si intende le attività si intendono quelle attività che in qualche modo riescono a tenere motivate orgogliose le persone di far parte di un'azienda non solo per il mestiere puntuale che fanno e quindi dell'opportunità di poter esprimere il loro talento posizionate nella nella migliore posizione possibile ma soprattutto per il contributo che si riesce a dare attraverso il far parte di un'azienda di una grande multinazionale che diventa un po quel fattore moltiplicatore dei propri sforzi molto spesso le persone di talento desiderano incidere nella nella vita sociale nel mondo con con le proprie idee le proprie opinioni il proprio operato da sole più difficile inseriti in un contesto come quello di una grande multinazionale come il packard enterprise inserito in un contesto di un brand grande e di una disposizione di risorse sono indifferenti tutto questo diventa molto più semplice ed è ovviamente un fattore motivante devo dire anche un ruolo privilegiato perché evidentemente credo che questo ruolo lo hai anche costruito sulla base di quella di quella voglia di fare che stavi dicendo prima quindi non mi risulta che molte multinazionali abbiano ruoli simili è così è privilegiato senza dubbio ogni volta che qualcuno me lo chiede io dico mi pagano per divertirmi in qualche modo ma è la verità perché come come ha detto qualcuno più bravo di me fai un lavoro che ti appassiona e non lavorerai un solo giorno in vita tua perché poi alla fine diventa veramente l'espressione non tanto qui del talento ma delle del proprio desiderio di fare le cose fatte bene fatte meglio che abbiano un impatto sugli altri e che siano una progressione per la vita umana di tutti fortunato perché perché all'interno di questa di questa azienda all'interno di hewlett packard che è insomma un'azienda storica iconica è quella che ha fondato e creato la silicon valley no col famoso mito del garage e c'è la cultura perché tutta questa attività possa crescere possa svilupparsi e in più oltre alla cultura devo dire che dal 2012 c'è stefano venturi il nostro amministratore delegato che particolarmente illuminato su questi su questi aspetti ed è stato il primo a voler promuovere con forza tante di quelle attività che possono diventate un asse portante che fanno riconoscere hewlett packard enterprise nel mercato da una parte ma a livello di sostenibilità e di sociale e per tutto quello che riguarda il terzo settore se tra l'altro giusto una curiosità utilizzo sempre nei miei corsi la foto della targa di luogo storico del garage diciamo il primo garage di hewlett packard quindi effettivamente una pietra miliare della storia moderna assolutamente è quella è una bella storia perché alla fine questo questo garage dove i due studenti di stanford bill hewlett e dave packard hanno creato hanno creato hewlett packard appunto e il primo garage della storia e la bella storia che tu mi hai sentito raccontare più volte quella che dopo quel garage ce ne sono stati tanti altri c'è stato quello dove bill gates ha fondato microsoft c'è stato quello dove steve jobs e steve woznak hanno fondato apple e tutto questo non è un caso non è un caso perché quello che hanno a fattore comune queste persone e che erano dipendenti di hewlett packard e dicevo che non è un caso perché la propensione verso il sociale la propensione verso la restituzione di benessere alla società è proprio indemica fa parte della cultura di hewlett packard e bill gates come steve woznak e steve jobs avevano l'opportunità di sviluppare le proprie idee perché faceva parte della cultura aziendale lo fa tutt'oggi quello di avere a disposizione una porzione del proprio tempo per fare delle cose altre rispetto ai propri ai propri assignment rispetto al proprio lavoro perché perché questo ovviamente favorisce la creatività favorisce la espansione del pensiero e se ne viene fuori qualcosa di buono anche se non è esattamente per l'azienda ma è di buono per la società tutta beh ottimo abbiamo abbiamo raggiunto il risultato pensate che tutt'oggi ciascuno dei colleghi all'interno di hewlett packard enterprise dispone di 60 ore all'anno per fare volontariato pagato dall'azienda ma quando dico pagato intendo dire che ci sono dei premessi ritribuiti invece di andare al lavoro si va a fare del volontariato perché il concetto di restituzione del benessere passa proprio attraverso l'opportunità del dare non solo lavoro quindi stipendi quindi sostenere le famiglie ma dove ci sono le sedi di hewlett packard enterprise riuscire a incidere positivamente sul territorio con con i propri progetti con le proprie idee con il proprio approccio anche fatto dal volontariato si devo dire avendo frequentato i vostri campus a roma e milano che quest'aria si respira cioè sono elementi che si colgono davvero anche solo passeggiando all'interno della struttura ecco qui però la tua premessa è perfetta per introdurre quello che è il link di questa chiacchierata col mondo del marketing perché tu sai che ho lanciato un po di tempo fa un podcast intitolato human marketing dedicato al human marketing dove sto cercando con con l'aiuto anche di contributi appunto di persone come te che hanno esperienze molto particolari rispetto al mondo del marketing cercando appunto di trovare quella modalità con cui il marketing non è più un elemento per usiamo un termine brutale per svuotare i magazzini di roba inutile cosa che purtroppo soprattutto in passato è accaduta devo dire tante volte ma piuttosto il marketing inteso come quella disciplina che aiuta le persone ad entrare in contatto con informazioni che gli sono utili per risolvere dei problemi per affrontare delle esigenze quindi il marketing come strumento come veicolo che le imprese hanno per aiutare le persone a soddisfare delle esigenze ecco in questo senso se è vero che il marketing anche da un punto di vista etico può essere questo questo tipo di elemento che ho descritto beh allora lo human marketing fa un passo ulteriore e cioè è quel marketing che oltre ad aiutare le persone a risolvere delle problematiche soddisfare delle esigenze ha anche una valenza fortemente orientata all'essere umano e da questo punto di vista io devo dire che i mesi del lockdown hanno cambiato molto l'approccio anche della comunicazione di imprese basta basta accendere la televisione o andare su internet per renderci conto di come il tono di voce il tipo di messaggi il focus della comunicazione di tantissime imprese è cambiato ed è diventato molto più orientato proprio questo aspetto human tu cosa ne pensi Enrico è un argomento affascinante affascinante perché ci sono tante componenti che vengono messe insieme e quando parliamo di human marketing la mia idea è quella che scusa sono brutale le persone secondo me non sono stupide o quantomeno non lo sono per definizione è un approccio di vendita che passa attraverso uno strumento di marketing che tende a categorizzarle appiattirle su una fascia mediocre di pensiero io lo trovo innanzitutto rispettoso e probabilmente anche poco funzionale poi non so quanto questa visione sia sia condivisa dai dai guru del market del marketing però il punto fondamentale che quando accendiamo il pensiero quando accendiamo la responsabilizzazione delle persone io credo che si trova sempre un ritorno molto forte abbiamo passato tantissimi anni da prima a vendere la qualità di un prodotto negli anni 50 60 anche 70 si si mirava tantissimo a enfatizzare le caratteristiche puntuali di un prodotto poi a partire dagli anni 80 90 anche nel 2000 e si si lavorava tantissimo invece nello sviluppo dell'emozione che poteva dare il prodotto quindi non interessava più che quello che si metteva in circolo in vendita che si pubblicizzava fosse quel prodotto ma la sensazione che questo prodotto potesse provare però ripeto le persone non sono stupide e sciocco che io pubblicizzo una macchina con la quale sarò in scatolato nel traffico per il 90 per cento del tempo e me la fai vedere che cammino per grandissime strade nei canyon nelle valli correndo come un disperato quanto tutto ciò non avviene tra l'altro su strade perfette con un clima meraviglioso senza traffico o meglio è sciocco è stata una strategia di marketing che probabilmente ha funzionato non voglio criticarle perché le macchine si sono vendute però che le persone si rendono conto che c'è una discrazia tra quello che pensavo di acquistare e quello che poi acquistato insomma ce le puoi fregare una volta la seconda hanno imparato sono convinto che giocare sulla leva della emozione sia il percorso giusto però forse più che la leva dell'emozione data dalla l'emozione che mi suscita l'utilizzo di quel prodotto di quel bene di quel servizio e l'emozione più importante è quella che è insita in noi nel momento in cui io ne faccio un uso di quel bene o di quel servizio la differenza è tutta lì cioè nel momento in cui sono chiamato attraverso uno strumento di marketing a ragionare a rendermi conto che attraverso quel bene quel prodotto io potrò farne un utilizzo che susciterà in me delle emozioni concrete reali e probabilmente condivisibili con gli altri perché non c'è niente di più interessante quando una emozione del condividerla viversela di sé per sé bello ma dura poco condividerla vuol dire amplificarla ecco credo che questa possa essere la vera chiave sulla quale potersi indirizzare e ti dovessi dire in questo periodo di lockdown dal mio osservatorio che per carità è piccolissimo ed è limitato a certe a certi ambiti che sono tipicamente quelli della formazione dello sviluppo della diversità dell'inclusione della gestione del talento ma ecco su questi ambiti dove ovviamente ci si è mossi tantissimo soprattutto in ambito formazione sviluppo ho visto utilizzare questo approccio nel senso che piuttosto che dire beh dal momento che sei a casa e non hai niente da fare cosa che era tutta da vedere comunque non avere da fare e perché non passi il tempo a sviluppare delle competenze con questo prodotto e allora questo tipo di approccio è molto è molto riduttivo diverso è dal momento che sei a casa e non sei da sole sei con la tua famiglia hai pensato che potresti passare il tempo con la tua famiglia valorizzandolo attraverso il coinvolgimento tuo e loro insieme nel raggiungimento di una nuova consapevolezza una nuova competenza che sia di carattere che ne so da dallo yoga all'ergomotricità che è stata fatta un po un po da tutti allo sviluppo di una nuova consapevolezza in ambito artistico filosofico o quel che l'è allora questo secondo me funzionava meglio perché faceva leva sul concetto di persona che non è da sola che deve condividere un momento comunque sia emozionante con la propria famiglia star chiusi tante settimane mesi nella condivisione del medesimo spazio comunque ti porta a rivedere a riflettere su tanti aspetti della tua vita e riempire questi questi aspetti non perché non è niente da fare o perché ti devi tenere impegnato ma nella direzione del sostanziare un rapporto più forte un legame che coinvolge te e gli altri nel fare qualcosa insieme quindi loro insalta e allora lì sì che ti sto vendendo un'emozione condivisibile che proviene dall'utilizzo di un prodotto e credo che ecco diciamo il mio osservatorio è limitato perché vedeva solo questi aspetti ma credo che sia stato un approccio molto interessante sì devo dire le tue parole insomma mi riconosco pienamente in questo tipo di approccio anche se poi le statistiche magari ci dicono che non tutti hanno colto questo tipo di opportunità nel modo che tu hai descritto purtroppo ci sono anche parecchi problemi come dire psicologici che sono immersi in un po in tutto il mondo evidentemente quindi è una cosa che ha toccato tutti ma ecco vorrei fare un salto però perché tu lavori e insomma operi quotidianamente in un'azienda iper tecnologica quindi a me interesserebbe anche capire il tuo punto di vista dal tuo osservatorio privilegiato su quello che è il rapporto almeno da un punto di vista come dire potenziale tra la tecnologia e il marketing noi nel marketing ormai parliamo sempre più spesso di data marketing parliamo comunque di sistemi che aiutano gli uomini e le donne del marketing a prendere decisioni piuttosto che analizzare dati situazioni mercati ecco questo è un tema che peraltro tocca non solo il marketing evidentemente pensiamo all'algocrazia quindi ci allarghiamo ben al di là di questo piccolo mondo del marketing ma voi state ragionando su questo tipo di tematiche con le vostre tecnologie avete delle delle proposte che interessano il mondo del marketing specificamente ma sai il il periodo che abbiamo vissuto è stato talmente talmente lungo da necessariamente avere la forza di suscitare dei cambiamenti culturali come sempre accade se c'è un evento particolare traumatico quello che i più bravi definiscono il cigno nero che avviene per un periodo limitato del tempo e vabbè tutti si passa a quel periodo di tempo ad aspettare che si torni come prima quando questo periodo è assolutamente protratto nel tempo finisce per avere un impatto forte e cambia culturalmente il modo di fare di pensare di ragionare le persone insomma si entra nell'ordine delle idee che niente sarà come prima poi insomma a noi esseri umani piace tanto no oscillare tra gli estremi andrà tutto bene niente sarà come prima non vedo l'ora di tornare alla mia vita normale no ci sarà il new normal poi la verità sta nel mezzo siamo siamo fatti di tante scale scale di grigi una delle cose che mi aspetto che culturalmente cambi moltissimo sia già cambiata il modo in cui le aziende sviluppano il proprio marketing se una volta una volta fino a pochi mesi fa ovviamente era molto basato su grandi eventi grandi manifestazioni oppure piccoli momenti dedicati ma comunque sempre che facevano leva sulla sulla relazione sociale espressa dal vivo e quindi una buona parte dell'evento era concentrato su il convivio la parte dei tavoli dove si prendeva un caffè e quindi al di fuori del momento istituzionale si poteva abbassare il livello di guardia e parlare in modo più più sereno e tranquillo perché si stava pigliando un pasticcino e che sono cose nobilissime studiate a tavolino nella strutturazione degli eventi no e tutto questo probabilmente cambia ma anche se arriverà un vaccino la cura miracolosa per tutti e via via dopo aver passato un anno un anno e mezzo in questa dimensione io non credo che si tornerà a delle strutture oa degli impianti dedicati e univoci di marketing sviluppati in quella direzione sono più dell'idea che ci saranno degli approcci blended quindi se quando sarà possibile rimettere in piedi una serie di eventi con più serenità sicuramente ripartono se io penso al più grande evento che fa il packard enterprise che il discover che è un evento che viene fatto a livello mondiale una volta all'anno tipicamente a las vegas dove vanno migliaia di persone pagando un biglietto anche non indifferente ma perché perché una fiera della tecnologia è una fiera delle tecnologie in qualche modo che da uno sguardo sul futuro e fa vedere quello che in anticipo quello che sta per arrivare tipicamente nei lab si sviluppa e si sviluppano i concept le idee che arrivano intorno ai prossimi tre quattro cinque anni in quel momento hai l'opportunità di toccare con mano e vedere quello che potrà impattare positivamente le aziende beh quest'anno ovviamente è stato fatto tutto in modo virtuale che è un male da un certo punto di vista ma da altri punti di vista se vogliamo pensare a tutto quello che è stato l'impatto minore su che ne so l'imprinting del carbon footprint di tutte le persone che dal mondo hanno dovuto viaggiare i costi e di un'operazione del genere ma anche l'accessibilità perché mentre comunque sia in un evento del genere va qualche migliaio di persone fatto in remoto va qualche decena di migliaia di persone quindi si allarga la platea e la possibilità di accedere per non eludere la tua domanda cosa cambia che cosa che cosa starà cambiando e se c'è qualche cosa di puntuale che Ulet Packard Enterprise come soluzione sta ipotizzando verso gli strumenti marketing non in questo momento in modo puntuale ma ci sono tante tecnologie che sono già pronte e che secondo me sono degli ingredienti da mescolare in una sorta di macro ricetta nel momento in cui vogliamo andare a ripensare un approccio marketing che necessariamente dovrà fare i conti con una cultura diversa ricette che vedono ingredienti come immaginatevi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come grande motore che analizza i comportamenti espressi e quindi in grado di indirizzare al meglio determinate soluzioni immaginatevi eventi fisici dove con l'utilizzo dell'IoT o dei beacon che sono sparsi in giro in una mostra piuttosto che su un evento si riesce molto più facilmente a fare in modo che le persone possano avere dei percorsi topologici tracciati trovare al meglio quelle che sono le risorse che sono venute a visitare all'interno dell'evento o conoscere quali sono le strade più semplici per raggiungere un posto piuttosto che un altro e nel raggiungerlo magari identificare un percorso che gli permette di visitare e quindi apprendere e quindi avere visibilità, questo è puro marketing, di elementi dell'evento che altrimenti con un percorso diverso non avrebbe visto, questo solo per citarne un paio, ce ne sono tanti e credo che sia solo una questione di sviluppare dei concept perché le tecnologie già esistono ma devo dire che tecnologie che già esistono ce ne sono diverse e questo periodo di lockdown soprattutto ci ha permesso di rendercene conto Alla fine io ricordo, ti racconto un aneddoto, che tre giorni prima del lockdown ero al MIUR, al tavolo dove si stava discutendo in una riunione ristretta su cosa poter fare per sostenere lo sviluppo della scuola offline che sarebbe dovuto andare lì in linea da lì a pochi giorni e ricordo che eravamo diversi aziende e diversi operatori del settore e lì si disse, beh oggi giovedì, lunedì i studenti devono stare a casa che cosa si può fare, quali sono gli strumenti che si possono mettere a disposizione? Beh, quelle stesse domande ce le facevamo a tavoli analoghi già da tre anni mal contate la differenza è che quello che non si era fatto in tre anni si è fatto in tre giorni per carità, con tutte le difficoltà del caso con dei livelli sicuramente non di eccellenza ma di sopravvivenza però si sono fatte, perché le tecnologie già le avevamo alla fine uno smartphone in mano, gli studenti ce l'hanno tutti quanti qualcuno anche il computer, quindi riuscire a trovare la strada per veicolare digitalmente quello che altrimenti si doveva fare sulla scuola si è fatto ecco, mutate e smutando, qui il discorso qual è? le tecnologie già le abbiamo, si tratta di riassemblarle e risistemare per fare in modo che attraverso la tecnologia si possa raggiungere un livello di sviluppo di attività di marketing che però debbano fare come per la scuola cioè avere la persona al centro perché se ci continuiamo a innamorare dello sviluppo della tecnologia e quindi tiriamo fuori delle soluzioni fantastiche i bot che rispondono, le chat eccetera ma non sono sviluppate pensando all'utilizzo emozionale che ne farà la persona ma sviluppate perché ci innamoriamo di quella tecnologia beh, insomma i risultati possono essere migliorabili e torniamo al concetto di human marketing appunto che è effettivamente importante mentre parlavi pensavo agli eventi, al discover di Las Vegas eccetera e mi veniva una riflessione che voglio condividere così in maniera del tutto estemporanea con te può essere che il desiderio e anche il piacere di muoversi di viaggiare, di spostare i propri atomi in giro per il mondo magari col pretesto di un evento, di una fiera, di un congresso di qualcosa del genere diventerà sempre più relegato alla sfera del piacere e non a quella del lavoro perché comunque come giustamente hai sottolineato Enrico le cose che facciamo a distanza tutto sommato possono sostituire in gran parte tutte le esigenze che il lavoro ci impone però manca la componente che personalmente ritengo fondamentale che è quella del piacere che è quella del piacere anche di trovarsi a prendere un caffè con un pasticcino non solo per parlare di lavoro ecco, questo elemento e lo abbiamo visto molto bene in questi mesi è completamente scomparso cioè qui passiamo in slot magari di mezz'ora, di un'ora da un appuntamento, da un'oglione all'altra senza soluzione di continuità senza più avere nessun tipo di relazione che non sia strettamente focalizzata sull'aspetto lavorativo ecco, in questo senso e ripeto, una riflessione del tutto estemporanea forse in futuro il viaggio sarà davvero qualcosa di più legato all'esperienza emozionale che ti dà il viaggio in sé al di là del motivo per cui lo fai cosa ne pensi? penso che non hai assolutamente torto e l'esperienza non è solo il viaggio ma il più delle volte sono le persone poi alla fine noi siamo esseri di carne che entrano in risonanza con gli altri a livello fisico e a livello psichico e è assolutamente corretto quello che dici questo periodo di distanziamento sociale che ha tagliato tutti questi elementi alla lunga non potrà non avere un impatto abbiamo mutato il nostro modo di lavorare in un modo assolutamente liquido c'è una costante commissione tra la vita personale le attività personali e le attività professionali il che secondo me è un bene attenzione, non voglio dire che sia una cosa fatta male ci vuole però capacità di indirizzo capacità di gestione di questo modello alla fine noi siamo almeno noi coi capelli bianchi ma anche tu siamo persone che sono cresciute all'interno di una struttura mentale costruita su tempi dati si va a scuola da piccoli da quest'ora a quest'altra si torna a casa si fanno i compiti da quest'ora a quest'altra il sabato e la domenica quando ero piccolo io solo la domenica e vacanza le vacanze sono da questo periodo a questo periodo cioè si lavora per scatole chiuse all'interno delle quali uno esprime il dovuto di quella scatola adesso è diverso e bisogna fare un salto di carattere qualitativo della propria vita professionale io ho sentito tantissime persone che in periodo di distanziamento sociale dicevano io lavoro come un disperato altro che sto a casa e mi riposo io ho sentito tante persone di aziende diverse attraverso i network dei quali che faccio parte e delle risorse umane che mi dicono la produttività è aumentata terribilmente e grazie alle persone il lavoro ne basta allora da una parte il lavorare basta era salvifico perché immergersi nel lavoro con questa caparbietà in qualche modo dava una sensazione di essere presenti essere attivi essere un elemento portante della soluzione che da qualche parte doveva arrivare e la soluzione non poteva che arrivare offline perché il male era offline scusate ma la soluzione era online eravamo tutti collegati a dover trovare il sistema per riuscire a dare il nostro contributo ma se non riusciamo a dare una direzione e questa è educazione nel senso termine proprio del termine una direzione una policy di utilizzo del nostro tempo poi questa liquidità finisce con essere un problema se invece è ben indirizzata ecco riesce quasi probabilmente a diventare quel non lavoro nel lavoro perché riesco a indirizzare le cose in modo compatibile col mio tempo con le mie necessità con le mie passioni e tutto questo si unisce insieme in una ottima gestione della propria vita ma è un salto qualitativo è come la generazione che è dovuta passare dall'essere analogica al digitale qui dobbiamo essere una generazione che inoltre è capace di passare dalla gestione offline alla gestione online nella reale commissione delle cose c'è un punto siccome entriamo in risonanza con gli altri e siccome quando siamo vicini le nostre emozioni ci parlano i nostri occhi ci parlano ma senza andare a fare discorsi di carattere new age la nostra aurea ci parla quando scatta la chimica per intenderci con una persona e non possiamo esimerci da questo non lo possiamo fare quindi necessariamente allora la parte di incontro di persona diventerà ecco tu dicevi la parte più più piacevole di di vacanza per intenderci vacanza si intesa come vacanza cioè assenza dalla relazione offline ma la parte di relazione sociale stabilita con gli altri continuerà necessariamente ad avere un valore portante dopo tutto se io e te oggi siamo qui a parlare è perché la prima volta che ci siamo incontrati è stato di persona è scattata una certa chimica ci siamo piaciuti abbiamo trovato altri modi di incontrarci di partecipare a eventi di trovarci da qualche parte se eravamo nella stessa città e questo è fondamentale io sono scettico sull'idea che sia possibile avere delle relazioni che nascono in online e quindi nascono in questo modo e possono progredire con delle radici solide anche se una buona parte di matrimoni ormai nasce proprio da contatti che vengono dalla rete si nascono lì ma si sviluppano assolutamente in modo fisico assolutamente Enrico abbiamo superato la mezz'ora canonica di queste chiacchierate devo dire mi farebbe piacere proseguire ancora per molto tempo perché sei sempre molto stimolante e acuto nelle osservazioni nelle considerazioni che fai quindi spero ci siano magari altre occasioni per riprendere questi ragionamenti in futuro per adesso mi limito da un lato ovviamente doverosamente a ringraziarti come sempre perché il tuo tempo anche se online è preziosissimo quindi anzi è ancora più concentrato per cui è ancora più prezioso ma al contempo devo dire spero che questi stimoli queste prime riflessioni che sono emerse da questa chiacchierata possono in qualche modo poi trovare anche un approfondimento applicativo nel mondo del marketing cosa di cui sono convinto soprattutto con quell'approccio human che abbiamo in parte sviscerato in questa chiacchierata quindi grazie ancora Enrico e alla prossima grazie Massimo ciao 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 Grazie per la visione!